Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti al PRCP numero 56, quello organizzato in mezzo alla prima settimana di Giro d'Italia, grande sforzo redazionale per essere qui insieme a voi anche questa settimana, in mezzo a tutte le produzioni di CicloWeb che sta facendo un video al giorno, bentornato CicloWeb a livello di canale YouTube e bentornato Marco Grassi, cosa c'hai da dirci oggi Marco? Ma guarda ho fatto tardi perché prima sono scivolato sul bagnato, ma che palle queste tappe, non ho più il fisico per reggere queste cose, l'ho scritto pure nell'articolo prima, oggi siamo riduci da una tappa a Tripalda Saleno la quinta in cui abbiamo visto molte cadute, per fortuna leggevo adesso anche la notizia su Vendrame che sembrava quello messo peggio, è stato portato via in barella, pare che non sia nulla di che, poi in realtà nulla di grave, addirittura domani prova a ripartire, sicuramente è andata peggio ieri a Valerio Conti che si è fratturato il bacino. Che tra l'altro si è fratturato l'altro ieri e ha fatto tutta la tappa di ieri col bacino fratturato, non ho capito come sia fisicamente possibile. Non so se si è andata effettivamente così. Ho letto questa cosa in giro, infatti bisognerà chiederglielo perché mi sembra incredibile, però comunque è vero, ci sono state a quanto pare poche conseguenze gravi se non nessuna dal punto di vista fisico per i corridori, però insomma, quota al 100%, non penso sia necessariamente questione d'età, io non lo reggo, non le ho mai rette queste tappe qui, dove lo sai quasi da prima che l'unica cosa che può succedere è questa e regolarmente succede. Regolarmente succede agli uomini più importanti, cioè sembra quasi un magnetismo. Quello non so, guarda, oggi è caduto due volte Remco, una volta Roglic, ma poi sono caduti un po' tutti, Vlasov. L'Ecnesund era rimasto dietro con Roglic, Vain ha perso tempo dietro. Jokati è caduto, forse solo gli Neos si sono salvati. Vabbè, è un bel segno del destino, potrebbe essere questo. Se uno ci crede. Cioè, nel senso che il geranio che non rientra in questa serie di cadute è stregoneria, cioè è più inspiegabile della dinamica finale della caduta involata ai Cavendish. Caduta clamorosa, cioè il fatto che poi alla fine nessuno si sia fatto veramente male te la fa riguardare, ma poi dopo, ma mentre è successo, quando ho visto che Cavendish andava, schizzava addosso a Fiorelli, già lì mi sono messo che male nei capelli. Poi è rimbalzato. Sì, sì, si è visto a prima. Al centro della strada. Come perché? Io già da quando era scivolato sulla doppia corsia di Vernizze, già da lì ho detto oddio, perché poi è Cavendish, e comunque è un po' una palla impazzita in questi casi, lo sappiamo. È una Cannonball. È una Cannonball, esatto. Non l'avevo neanche pensata. E poi sì, ho proprio, cioè ho visto, la volata l'ho vista così, tipo da piccolo quando guardi gli horror. Fiorelli si è grattuzzato tutto, io guarda quell'immagine, io non so perché hanno voluto induggiare lì, veramente gli ho tirato due o tre bestemmi all'operatore. Perché sono indulgenti, ah no, quelli lo indulgono. Vabbè, comunque, tutti sostanzialmente bene, certo dovrebbero che cade due volte, la prima per Iella, perché un cane, poi pursti i cani, voglio dire, ma andate dall'altra parte. A me vi fate male pure voi. Poi magari, esatto, possiamo anche entrare nel tema animali, se vuoi. Ma non credo, penso che fosse un randaggio, non penso che fosse un cane sfuggito dal guinzaglio o da qualcuno. Non mi sembrava avere il collare, le riproposizioni, quindi immagino fosse un randaggio. Certo, mi è venuto un po', scusa, poi ti faccio continuare, ma mi è venuto a farmi questa domanda, cioè un cane randaggio di fronte a un papocchio di evento e casino del genere. Non dovrebbe avere la reazione naturale di scappare dall'altra parte, invece di tuffarcisi dentro. È stato strano. Cioè, ieri o l'altro ieri c'era stato un cane che ha attraversato sempre il gruppo, però rimanendo tutto defilato sulla carreggiata per evitare. Questo qui è sembrato proprio tuffarsi in mezzo, chissà cosa ha visto, chissà che trips è fatto. Ma sai, il cane che se ne sta in disparte rispetto al gruppo non fa notizia. È lo stesso che morde l'uomo, quindi è più pericoloso. L'uomo che morde il cane. Niente, è... Se non fosse un randaggio, chiunque tu sia, magari la prossima volta evitiamo di portare i cani senza guinzaglio ad una forza ciclistica, così lasciamolo anche come messaggio di pubblica utilità, Marco. Ricordo una foto bellissima di Gilbert, te la ricordi? In una classica, forse cos'era, o forse era il Tour de France, che redarguisce pesantemente un ragazzino che aveva un cane bianco, un grande cane bianco. Allora, ora la cerco e se la trovo la condivido perché è una foto bellissima. Cioè, il ragazzino che difendeva il cane, e il padre che difendeva il ragazzino, cioè tutto con il linguaggio del corpo, e Gilbert che era inviperito e se li voleva sbranare tutti e tre, il cane, il ragazzino che... È il cane che difendeva Gilbert. Non lo stanno con la messicana, dici. Ha ragione, ha ragione. Ho fatto una minchiata, dai. Beh, comunque, sì, mentre Zierchi continua il tuo discorso un pochino. Era una ragazzina. È stato molto sfortunato, non è stata in alcun modo colpa sua. Nella seconda, invece, lì è stata una distrazione. Poi, certo, la dinamica è stata sfortunata perché proprio mentre lui scartava un pochino a destra, guardandosi intorno, il track è scartato a sinistra esattamente in quel momento, però Renko ormai dovrebbe saperlo che in gruppo bisogna stare sempre molto, molto attenti. Nel finale era tutto arrabbiato, però penso che quella rabbia, quella agitazione nello spiegare come era successo nascondesse anche molta rabbia verso se stesso, che non vuol mostrare in giro, diciamo. Eccolo. Sì, sì, penso che... Carinissima sta foto. Cioè, la madre ha preso la bambina proprio come per difenderla da un urco, praticamente. Il padre, effettivamente, c'ha pure un po' di senso di colpa nello sguardo. Sì. La madre, invece, è proprio... Ebbè, la mamma è sempre la mamma. Eh, la mamma... Lì si vede chi è il vero capofamiglia, in queste occasioni. Il padre si sta cagando in mano di Sam. No, il padre è consapevole, diciamo, della vaccata fatta dalla figlia. E anche del vantaggio di Gilbert, cioè di se questo si viene o così. No, guarda, se tu ci pensi, qui emerge proprio chiaramente la differenza dei ruoli dei genitori. Cioè, il ruolo normativo, quello del padre, consapevole di essere in colpa, in errore, che quindi li abbozza, e il ruolo, invece, affettivo, la madre, che invece non vede regole, vede soltanto la difesa della prole. È bellissima questa... Bello, sì. Va bene, dai, basta così. È anche l'amico di Gilbert che lo tiene come nelle migliori risse ubriache delle quattro e mezzamattine. Lui era il direttore sportivo, però non mi sono ricordato, era italiano quello lì, ma non mi sono ricordato chi... Anche a me sembrava, però... Detto ciò, niente. No, capite, scusa, apro la parentesi per l'amico che mi ha criticato per questa cosa. Poi non ne apro più oggi e andiamo spediti. Il gioco dei ruoli, il gioco dei ruoli dei genitori. Quando si dice il bambino ha bisogno di un padre e una madre, non biologicamente di un padre e una madre, ma del ruolo del padre e del ruolo della madre. Genitore 1, genitore 2. Esatto. Se sono due maschi, uno fa il ruolo della madre comunque. Se sono due femmine, una fa il ruolo del padre comunque. Il ruolo normativo, il ruolo affettivo. Vai. E quindi, caro Liverpool, fai attenzione nel finale. Ma ti puoi far travolgere da Pedersen, non so chi? A proposito di genitorialità e anche di italianità, notavamo con la mia ragazza quando riproponevano Remco che faceva tutti questi gesti all'ammiraglia per spiegare. Mi ha passato di qua, è proprio arrivato all'improvviso e poi boom, tipo ma che cazzo stai a fare? Cioè, guarda, tutta sta gestualità all'italiana. È molto italiano Remco in queste cose e non so se hai imparato da Bramati oppure se in realtà questa che noi pensiamo sia italianità è calzatorialità. Cioè lui da calzatore ha quella gesticolarità. No, sto scherzandovi. Però è stato carino, è stato carino. È molto incazzato. Adesso bisogna vedere la seconda botta, se qualcosina può avergli provocato. Più della prima. La prima è sembrata passare veramente easy e mi ha ricordato un pochino quella dell'anno scorso alla vuelta che era sempre una scivolata, diciamo, abbastanza tranquilla. Mentre questa qui, la seconda, è più un cascare di netto. Non andavano così forti, però... No, paradossalmente quando piove la strada è più insicura, più malsicura perché scivoli, però vai più piano e quindi ti fai più male. Soprattutto quando poi vai sull'asfalto, lo scivolamento ti fa fare meno male, meno dolore. Quindi, comunque, da questo punto di vista la pioggia è pure salvifica. Il problema è però che cadono troppo. A me soprattutto la volata. Perché la caduta dei meno sette è stata una cadutina così. Ecco, proprio la tipica... Il tipico scivolone in cui nessuno si fa male. No, ma poi quella era scritta nella pietra. Cioè, era impossibile che non si cadesse in quella curva. Era un fatto in 150-180 con la pioggia, curva a 90 gradi, sette chilometri, al fine quando vai forte. E' così. La caduta ai meno 2-2, quella di Renko, che poi ha coinvolto altri 20, poi in realtà perché da un lato e dall'altro è la strada. Quella era evitabile ma rientra sempre nella... Non nella tensione, nella frenesia, ecco, del fine tappa in cui c'è chi va più veloce, chi si fa da parte. C'è un miscuglio di situazioni che rendono poi più facile andare giù. Ma quella è involata proprio, porca miseria, guarda, ho scritto un articolo, le transenne, o come diceva Bulbarelli, le transenne, di RCS Sport, salvano vite, eh? Perché è una caduta del genere, anche già al Tour de France... Non parlare del Polonia, ovviamente. Vabbè, non parliamo del Polonia, però già al Tour uno poteva finire nel pubblico, in una situazione del genere, oddio, comunque. E dal punto di vista siamo un'eccellenza e questa cosa va sottolineata. Però un prossimo step deve essere quello di porre la condizione sugli arrivi, in pianura, nell'ultimo chilometro almeno, non ci devono essere strisce per terra. Tu, l'amministrazione comunale, le cancelli, metti di via, perché sono un elemento di pericolo in caso di pioggia, troppo pericoloso, troppo pericoloso. Ma è addirittura, in Eurosport, c'è il ragazzo che fa l'inviato, no? Che, non so se tu vedevi la trasmissione d'Eurosport. Tu vedi il tombino, no? Esatto, che ha fatto vedere le strisce e il tombino e ha detto ci sono almeno cinque diverse strisce di vernizia nell'ultimo chilometro, sarà pericoloso, c'è il tombino. Cioè, un occhio che arriva lì e lo vede per la prima volta lo capisce subito che è pericoloso. Allora, effettivamente, si potrebbe fare di rendere meno pericolosi questi arrivi e io però rincaro la dose qua, Marco. Penso che ormai i tempi siano maturi, penso tra l'altro che non gliene freghi veramente una mazza a nessuno, a chi interessa, una piccola percentuale, agli appassionati. Ci deve essere, secondo me, la neutralizzazione totale, a prescindere dalle cadute, negli ultimi cinque chilometri di corsa, non tre, di tutte queste tappe di volata. E tutti gli uomini di classifica e soprattutto tutte le persone inutili che non ha senso che stiano davanti, si devono togliere dai maroni e lasciarsi godere una bella volata. Però, appunto, la neutralizzazione deve essere a prescindere. Non può nascere solo se c'è la caduta, perché se nasce solo quando c'è la caduta, fino a quando c'è una caduta, tutti si distruggono a forza di stare davanti e causano le cadute. Sono perfettamente d'accordo. Diciamo che questo c'entra poco con quello che è successo oggi. Oddio, tu dici la caduta di Remco ai due chilometri, se si fosse spostato tre chilometri prima magari cos'erebbero andate diversamente. Io li voglio vedere friwillare fino all'arrivo i corridori della classifica. Non mi interessa nulla che stiano lì a far la volata. A tanti so che interessa. No, comunque devono arrivare con gli altri. È una delle difficoltà. A me, a livello sportivo, di questa difficoltà dell'evitare le cadute e soprattutto a volte di beccarle, non mi interessa nulla. Non è un valore. Ma se oggi vi è a David Remco e quella caduta di due chilometri, non stavamo parlando. Allora, bisogna andare veramente nella direzione di una riduzione del danno. C'è chi dice, se tu la neutralizzazione l'anticipi, allora quello che ora vedi ai tre chilometri lo vedrai ai cinque. Cioè comunque, quella frenesia fino ai meno tre, la vedrai comunque fino ai meno cinque. Sì, però meno. Qualcosa ci sarà sempre. C'è competitività, certo, ma soprattutto meno. Però meno. E soprattutto i tre chilometri molto spesso sono all'interno della città, della località di arrivo. I cinque chilometri invece a volte, soprattutto quando si arriva in località piccole, sono ancora fuori dal paese. Quindi con meno ostacoli, meno possibilità di cadere, capito? Ma a me andrebbero bene anche otto, dieci chilometri, chi se ne frega. Così le squadre e i velocisti si possono organizzare bene, vediamo sta bella lotta dei treni, hanno spazio. Ripeto, a livello sportivo, tecnico, di intrattenimento è molto meglio, palesemente. È vero, è vero, è vero. Credo. Va bene. E questa è la lappa di oggi. Palesemente rimane un'opinione comunque. E palesemente è i miei occhi. Sono perfettamente d'accordo con te. In un breve resumen di quanto abbiamo visto finora, questa è la tappa di oggi, in cui Caden Gros ha vinto la sua prima tappa al Giro d'Italia, l'ha vinta con tre giorni di ritardo forse rispetto a San Salvo, perché San Salvo aveva vinto Jonathan Milan, che si è imposto all'attenzione, diciamo, in mancanza di Pippo Ganna, che è un po' mancato in questo avvio di giro. Vabbè, è arrivato secondo nell'acronometro, battuto da un Renko stratosferico, che gli vuoi dire? Renko ha fatto un acronometro da all-timer dei Grand Tour, da Indurain, anche Till, quelli che veramente distruggevano i Grand Tour così, secondo me. Eh già, è già, proprio così. Milan ha vinto la seconda tappa, in volata, ha volata bellissima a San Salvo, bellissima nel senso che l'ha vinta proprio nettamente. Poi in realtà Milan non è bellissimo da vedere in bicicletta, questo pistonare, poi fa simpatia, perché comunque è un ragazzone molto simpatico. Pestatore folle di pedali, proprio, stantuffatore. E in tutto questo, poi a Melfi, nella seconda tappa è successo quasi niente, diciamo, c'è stata la volata e via. C'è stata una caduta che ha condizionato la volata, però senza molte conseguenze, anche lì semplicemente molti sono rimasti dietro. A Melfi, la terza tappa, invece c'erano delle salite nel finale, la Geico a Lula, soprattutto con Filippo Zana, ha reso molto duro il finale, e ciò le ha sorriso perché poi ha vinto Michael Matthews, battendo Mads Pedersen, che è il vero sconfitto di questo inizio di Giro d'Italia, perché doveva essere il favorito per la maglia ciclaminino, e si è trovato a fare terzo oggi e secondo tre giorni fa, però ti dico una cosa. Mentre a San Sago era rimasto coinvolto nella gaduda. L'anno scorso, alla Vuelta, nella quale poi ha dominato la ciclamino tipo con numeri record, ha fatto nelle prime, vabbè la prima tappa era una cronosquadre, ma nelle prime tre tappe in linea, ha fatto tre volte secondo, non so se ti ricordavi sta cosa, e sembrava anche lì il grande sconfitto, poi però nell'ultima settimana ha vinto tre tappe. Scusa, Mads. No, 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 vabbè, vabbè. Scusa, Marco. No, c'è il senso che lui è uno che si piazzerà sempre, è un corridore all'Avanart, un pochino, è sempre lì e poi c'ha le volte in cui vince. Vabbè, puoi iniziare a vincere già domani a Napoli perché c'è una tappa eventualmente adatta. Comunque queste sono state le tappe veloci. Che lo prenderò al fantasiclismo domani, molto probabilmente. Queste sono state le tappe veloci, nelle tappe invece più lente, vabbè la cronometra è stata pure quella, veloce, come dicevamo, costa dei trabocchi. Il tema è stato un po' la scarsità di pubblico, se vogliamo, nella cronometra di partenza, insomma, i bagni di foro del Tour de France ce li possiamo scordare comunque in queste situazioni. È dall'anno scorso quando è uscita Fossa Cesia che infatti ci chiediamo, ma sta Fossa Cesia dove? No, ma è a parte quello, ma soprattutto... Salutiamo gli amici abruzzesi che ci stanno guardando, perché voi loro sono molto regionalisti. A 3.000 abitanti, dai, come fa uno a conoscere, ci sono delle città di 3.000 abitanti in zero che conosco e questa qui purtroppo la conoscevo, purtroppo perché tra l'altro è palesemente bellissima, però appunto era da quel momento che ci chiedevamo, ma questa grande partenza sarà così grande? No, era una bellissima cronometra da fare a metà settimana magari, comunque gli scenari li avremmo visti lo stesso. E soprattutto, secondo me, il vero problema... Non so se hai notato sta cosa che tu hai fatto l'altro ieri, il video nel quale, anche nel titolo, davi parzialmente ragione a Fabretti, mentre io ho fatto il video, cararai, non hai ragione, quindi addirittura qualcuno è venuto a scrivere sotto, guarda che siete in disaccordo, ma a parte che non era vero, tu avevi parlato di tutt'altre cose e mi sono perso un attimo. Si può essere in disaccordo, caro segnalatore del disaccordo? Esatto, gli ho scritto, ma in caso non ci sarebbe sul problema, comunque abbiamo parlato di cose totalmente diverse e... cosa volevo dire? Vabbè, mi è passato in mente, scusate. Vabbè, e tu cosa dicevi a cararai? No, perché sono curioso, scusami, non l'ho guardato, non l'ho visto il video. No, io avevo posto tutto il mio focus... ah, ecco, questo volevo dire. Avevo posto tutto il mio focus sulla tappa della domenica, all'interno del discorso appunto sulla noia, avevo detto che secondo me la tappa del lunedì non era stata assolutamente noiosa, era stata una tappa molto figa negli ultimi 50 km, ma anche che un grosso problema secondo me è che tappe metti la domenica, ma questo te l'ho sempre detto anche a te, cioè io sono fissato con la tappa della domenica, per me deve essere assolutamente sempre un tappone con contenuti tecnici e curiosità suscitata anche nello spettatore generalista attraverso luoghi molto riconoscibili con un interesse forte. Sì, sì, no, questo è quello che ho scritto esattamente, che ho detto nel video commento nel primo che ho fatto, perché ne ho fatti due, non ha senso mettere di domenica una tappa che già sai che sarà noiosa, non ha proprio alcun senso, perché non si contano più le volte in cui gente che non segue il ciclismo, ma che ha dato qualche volta una chance al ciclismo, o più di una chance, è venuta a lamentarsi con me, ti parlo di mio zio o un mio amico, è venuta più volte a dirmi, alla fine visto che tu parli sempre di ciclismo, ho detto ma fammi guardare oggi la tappa del Gio d'Italia, ovviamente domenica, oh ma che palle, ma come fa, perché era una tappa da volata del cazzo di domenica, ecco e tu allontani la gente, che fa dire che palle anche a noi, ma dico ma che ci vorrà per arrivarci a questa cosa, tu la domenica mi devi mettere la tappa dei muri, dove succede qualsiasi cosa, ogni tre chilometri, così uno che ci capita per sbaglio, c'è caspita però questo ciclismo, capito, perché uno è difficile capire per sbaglio sulle classiche, perché non sa che ci sono le classiche, è un concetto che gli sfugge, però il Gio d'Italia lo sai che c'è, e quindi magari dice, beh oggi è domenica, vediamo sto Gio d'Italia, e niente, invece si deve beccare la Teramo San Salvo, era Teramo San Salvo? Sì, era Teramo San Salvo, insomma, quindi manifesto PRCP per avere delle buone tappe la domenica, una cosa comunque ancora più in generale, che volevo vi dire poi durante questo podcast, è che, insomma, mi sembra decisamente che al di là dell'inizio del giro, che è un po' un antipasto, il tema principale di questo giro sarà la pioggia, lo è già, lo è già, con due giorni di fila che piove di brutto, no, tre, con tre giorni di fila che piove di brutto, tre giorni fa solo la seconda metà, ieri tutto il giorno, oggi tutto il giorno, domani sarà tutto il giorno, molto probabilmente, e così via, vediamo, comunque anche dopo ci sarà maltempo, il San Bernardo, non ho ben capito che si farà o no, e io dico Marco, no, ok che andiamo a toccare temi veramente già toccati e giganteschi, però, cioè, al di là del calendario, di come è costruito, del Lucid, del Tour de France, del fatto che tutti si devono adattare, il fatto che dovresti ricostruire tutto ed è un casino, hai fatto da pochi anni, eccetera, ma fare il Giro Italia a maggio in Italia, che è l'unico mese dell'anno in cui piove a bestia, aprile e maggio, piove due mesi all'anno in Italia ormai, cioè è proprio pressoché matematico, perché continuare così? Quanto meno una riflessione su questa cosa si deve essere perché c'è stato il cambiamento climatico, e per esempio tra l'altro a ottobre è ancora caldissimo e così via, bisogna un pochino rimescolare le carte, secondo me, a questo punto di vista. Allora, io mi limiterei a spostare il Giro in avanti di almeno una settimana, se non due, anche perché poi tu che cosa fai? Spostandolo in avanti, riduci la concomitanza col campionato di calcio, quindi magari ti si libera un weekend in cui c'è solo il Giro di fatto, non ci sono le partite, eccetera, vai incontro alla chiusura delle scuole, quindi tanti ragazzi hanno più tempo per seguire le tappe o proprio per andare a vederle. Poi, se tu fai il Giro a giugno, c'è chi può anche prendersi qualche giorno di ferie a giugno, mentre magari a maggio è più difficile staccare. Le scuole sono finite. Le scuole sono finite, quindi una famiglia può dire, ma andiamo a farci quattro giorni, già che ci guardiamo due tappe lì sulle Alpi a Belluno. Che poi significa tre a tutti i ragazzi liberi, anche tutti i professori e il personale, sono tipo milioni di persone. Secondo me non ci sarebbero, mentre nello spostamento del Giro a ottobre io vedrei uno snaturamento troppo forte della Corsa Rosa, perché vabbè, insomma, sono 120 anni che si non è che una cosa, siccome è sempre stata fatta in un modo... No, no, infatti la porta, per quanto mi riguarda, è aperta a tutto, però sì, non lo vedrei molto bene o più che altro, perché sappiamo che l'ultimo zitti dell'anno sarà sempre naturalmente quello un po' più snobbato. Ecco, questo soprattutto. Poi comunque se lo fai a ottobre il discorso della vacanza è uguale a maggio, voglio dire. Sì, ma d'altro non è un caso se il Tour de France, i mondiali di calcio e le olimpiadi sono tutte d'estate quando appunto la gente ha le ferie, non va a scuola, eccetera. Sì, 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 io sono perfettamente dell'idea di... ma anche di farlo partire dall'ultima settimana di maggio, spostando, spingendo per spostare anche il Tour una settimana più in avanti, cioè se dalle cinque settimane che ci sono di distanza tra Giro e Tour, noi ci andiamo a tre settimane. Tu sposti di tre settimane in avanti il Giro e di una in avanti il Tour de France e così da cinque settimane diventano tre settimane di distanza. E hai finalmente una corsa che ha il riparo dalle intemperie e da... A livello statistico ci provi, provi a buttarti sui numeri. Tra l'altro poi uno spesso la risposta che si dà a quest'idea è ma poi rendi impossibile la doppietta Zero Tour? Ah perché adesso in quanti la fanno? No ma poi con tre settimane tra l'uno e l'altro lo dico anche fare... Metodo Pantani e via. Detto ciò ci rimane solo una tappa da commentare, volevo farla a sta parentesi, mi sembrava importante, l'A4, l'unica tappa per ora di media montagna, in quale la Quickstep ha lasciato la maglia ad Andreas Lecknesund. Dopo tutta una disputa su cede o non cede la maglia insieme alle altre squadre, di quanti secondi riesce a prendere? Allora io a Lago Laceno ho visto... non l'alluvio, quale è il conto? Il buio? Io ho visto il buio! Io ho visto il buio! Era vestito da Timineos per caso? No, era vestito dal solito andazzo, che non è una rima casuale, delle tappe dei grandi giri di montagna. E cioè, cosa succederà non solo a Lago Laceno? Quante tappe di montagna ci sono? Sette, otto? Troppe! No, scherzo. Come dici, con arrivo in salita, saranno sei o sette. Quali che siano, allora, un, due, tre, quattro, cinque, sei, altre sei, diciamo, altre sette, altre sei, sette. Diciamo sei. In tutte e sei io credo che succederà cosa, che è andrà alla fuga e vincerà l'uomo in fuga. E i big giocheranno cinque minuti dopo o dieci minuti dopo. Un metro in mano. Seppure, che potrà anche succedere come ieri, che non se la giocheranno. Cioè che ci sarà uno contest dietro al trenino. Ecco, io ho questo timore. Perché Renko di prendersi grossi rischi... Con l'ussare alla fine è probabilissimo. Renko di prendersi grossi rischi in queste tappe di montagna, chi li ha a fa fare? O di partire da lontano, eccetera. Poi dopo le cadute. Roglic pure, vedrai che... Aspettiamo, 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 aspettiamo. E la Ineos per l'indole, comunque, non scorre così. Non lo so. Perché infatti che Renko sia davanti. La Ineos non farà mai nulla ed è chiaramente destinata a cercare di scrollarsi tutti di dosso col trenino fino all'ultima tappa e sognando che succeda come al Zero 2020, diciamo. Perché alla fine ci pensavo anche, no, l'altro giorno. Cioè al Zero 2020, forse, se togli la leggenda di Froome al Zero 18, è stata l'unica volta in cui nella nostra mente magari la Ineos ha fatto qualcosa di spettacolare che è rimasto un pochino, ha fatto un bel zero. Ma in realtà, se vuoi vedere a livello strategico, quello che fece sullo Stelvio, per esempio, con Dennis, era letteralmente trenino, poi è rimasto Dennis come ultimo del trenino, ha staccato tutti lui, ha portato Tao proprio sul vassoio fino al traguardo e bella, complimenti Tao, hai vinto il Zero d'Italia. Cioè è successo quello alla fine. Bella Tao, bella Tao. Vabbè, la speranza nostra, sai qual è? Si chiama Joao e J-Bine. Allora! J-Bine ha perso un minuto. Vabbè, qui squiglie, qui squiglie. Sì, l'UAE è la squadra, anche io lo dico da qualche giorno, che può tirar fuori il coniglio. Però al tempo stesso, a livello immateriale umano, sembrano sicuramente un passo indietro agli altri due, tre. E ora concedimi una rubrichetta in chiusura dedicata a uno dei miei ciclisti di riferimento. Veloce però perché poi ho un ultimo argomento da cinque minuti finali. Questa è la sigla della pubblicità degli anni Ottanta. Pino di Pino! Grande Pino con la maglia azzurra, non l'abbiamo detto. Marco fa... Qui schiazzerò l'aiuola. No, allora... Devi cedere al potere romantico del tipo che ti scatta sui GPM alla terza tappa. Quando mai l'hai visto? Uno che ha fatto podio al Tour de France che è staccatta sui GPM alla terza tappa. Allora, io non ricordo neanche quando... Ma cosa? Quando è che si è scattato? Nella nappa di Melfi è scattato a prendersi punti di GPM, sì. Ok. E gli si è preso... Poi ha avuto l'ardire... Questo caprone... Caprone perché ama le capre. Amico delle capre, certo. L'uomo che sussurrava stronzata delle capre. L'uomo che sussurrava Alassandro Curzi alle capre. Ha avuto l'ardire di dire... No, la maglia blu, la maglia azzurra non è un mio obiettivo puntata alla generale. Oggi ha fatto una cosa che ti serve da prenderlo... È un grande... Per le orecchie. Che cosa? Cos'era il tuo obiettivo? Infatti l'ho pure messo nell'articolo... Misto della maglia azzurra non è un obiettivo. È andato in fuga all'inizio, insieme a quei poveracci lì... Di cui Marcellusi è pure caduto... Pure Gandino è caduto... Dopo una curva praticamente della fuga. Si è inserito nella fuga... Si è fregato il primo GPM... Come era legittimo... E poi si è rialzato... E poi sull'ultimo GPM... È andato a sprintare con Buitrago... Una cosa anche simpatica. Cioè... Ha fatto esattamente quello che fa uno... Che ha l'obiettivo della maglia azzurra. Perché devi dire... Non è un mio obiettivo? Tra l'altro si è dichiarato anche il suo rivale... Che è Buitrago. È abbastanza evidente. Dai, è una bella lotta... Però dichiaralo. Punto alla maglia azzurra. Lotta delle maglie secondarie... Molto interessante da subito... Maglia azzurra e anche maglia ciclamino. Perché abbiamo un protagonista inatteso in Milan... Che tutti adesso cercano di buttare giù dalla torre... Di fegargli... Magari nelle fughe future... I punti anche di metà tappa... Cose così... Con Groves... Con Pedersen... È una lotta interessante anche quello... Per niente scontata. E cos'era la cosa che volevi dire? Era questa? E tipo... È la rubrica... La rubrica... Pino... E prima di darti la parola per l'argomento finale... Voglio fare i complimenti anche a Vincenzo Albanese... Che non abbiamo ancora citato... Però si è piazzato sia nelle tappe veloci... Sia nella tappa ieri di montagna... Eppure decimo in classifica... Che volete? Che vi porti l'acqua con le orecchie sto ragazzo? Palesemente se dovessimo nominare un Vanarte italiano... In questo momento sarebbe lui... Ne parlavamo l'altro settimane... La radice quadrata di Vanarte... Praticamente... Vai con l'argomento di chiusura... E poi salutiamo tutti... Beh... Ovviamente... Lo so che ti spiazzerò appunto la Iuola... Ma ovviamente... Dobbiamo dedicare almeno qualche parola... Alla clamorosa Vuelta femenina... Di Gaia Realini... Marco... Cioè... Che meraviglia... Non sono state le ultime due tappe di quella Vuelta... Chi se ne fregava del Ziro in quei giorni... Domenica... La Vuelta ha palesemente rubato lo spotlight del Ziro... Palesemente... Allora... Io ormai... Sai qual è il mio problema? Che faccio vari programmi... Scrivo di una cosa... Dell'altra... Sai... Quindi faccio totale confusione... Quindi... Poi con te parliamo... Tutti i giorni in redazione... Quindi non mi ricordo più... Con chi ho parlato di cosa... In quale programma ho detto cosa... Di cosa ho scritto... Non so più nulla... Non è tutto la grande... Ma è il strom... Nella mia testa... Poi ci metto pure degli... Starnuti... Tipo quello che sta per venire... Mi fa perdere... Pensavo di essersi degli additivi... Ecco... Buonasera... Grande Gaia Realini... Grande Vuelta... Piena di cose... E... Va bene... Ne abbiamo parlato in termini... Vente Beceri con Vittorio... L'altra sera... All'Osteria... Insomma... Ha perso tre minuti quasi... Nel ventaglio della terza tappa... Gaia Realini... Alla Vuelta... Ha perso esattamente... Il distacco che aveva alla fine... Dalla Van Vleuten... 2 e 41... Quando dici proprio... Incredibile... E poi però... C'aveva delle tappe favorevoli... Aveva tre tappe di fila... Un arrivo sul classico Mirador spagnolo... Poi c'era una tappa con due salite... Una tappa in stile Paesi Baschi... Con due salite nel prefinale... Due salite non lunghissime però... In cui si poteva fare un po' di selezione... E poi l'arrivo ai Lagos de Covadonga... E niente... Ha fatto questo limone... L'arrivo ai Lagos de Covadonga... Io... E Covadonga mi fa pensare a una canzone... Che cantavano dei miei conoscenti tedeschi... Che faceva... Comunque si è stata veramente una bomba... A Covadonga e non solo... Nella terza ultima tappa... Realini è stato lì che è rimasta indietro... No... Era nella quarta ultima che è rimasta indietro con i ventagli... Nella quinta ultima... Nella terza tappa... Ok... Terza tappa... All'Italia è perso... In 2041... Poi è una tappa interlocutoria... Alla sesta c'è stato il patacrac... Cioè... Van Vleuten che attacca... Mentre Vollering... Stava facendo la sua pausettina fisiologica... Che però... In una tappa di tre ore... Cioè... Cara Demi... Nel senso... È rimasta un po' a Demi... A metà... E a quel punto... Realini le si attacca... Ha tirato Van Vleuten per tipo 50 km... E poi Realini ha vinto... Viene da dire ovviamente la volata... Ma non è ovviamente... Perché comunque va battuta la Van Vleuten... Cosa ne dici di questo caso... Dopo sei stato del veleno serio... Perché il giorno dopo... Poi Vollering le ha dato le mazzate a Van Vleuten... Ci sentiva la vera vincitrice... E se ne sono dette di ogni... Praticamente... Già il giorno prima se ne sono dette... Perché... Vollering ha detto... Ma vergogna ad attaccare... Ora faccio una sintesi... Quando io... Però ha detto vergogna proprio... Eh... Ha detto... E disse shame... È vero che è una parola che ha varie accezioni... Quindi... A seconda di come viene intesa... Però insomma... Ci sta la traduzione con vergogna... E poi ha... La Van Vleuten ha detto... A parte che... La Lippert era stata attaccata... Aveva perso terreno nei ventagli pure la Lippert... Ma per lo stesso motivo... Eh... Di una pausa a pipì... Comunque la Van Vleuten ha avuto la faccia tozza di dire... No ma era un attacco che avevamo... Preventivato di fare questo attacco di squadra... E Vollering ha risposto... Dicendo... Ah... Non stava succedendo nulla... Erano passati 30 km da tappa... Il gruppo andava piano... Stavamo in un paesino... Non stava succedendo... Non c'era nessun tipo di avvisaglia... Casualmente... Proprio quando mi sono fermato... E' partito questo attacco... Che ha coinvolto... Poi non solo la Movistar della Van Vleuten... Ma anche la Trek di Gaia Realini... E anche la Jumbo Visma... Di Rian Marcus... A quel punto... Ci sono buttate tutti in mezzo... Giustamente... Ed è stata comunque una tappa esaltante... Perché c'è stato questo inseguimento... Della Vollering... Che con l'aiuto delle sue SD Works... Ha... Comunque ha limitato di molto i danni... Poi nel finale... Sulla... Sulle salite... Del finale... Insomma ha cercato da sola... Di... Recuperare il possibile... Sulle salite del finale... Movistar Pagliaccia... Con la stessa identica scusa... Di quando lo fecero... Vale a Roglic... Alla Vuelta... Tipo 4-5 anni fa... Identico... Era tipo a 80 km all'arrivo... In mezzo al nulla... Eh no no... Ma lì lo sapevamo... Che appena giravano la curva... Partivano i ventagli... Lì sono cazzi vostri... No no no... Segnato in rosso sulla mappa... Vale come Lagos de Covadonga... Quel tratto di strada... Assolutamente... Comunque... Comunque... Devo dire... Devo dire che... Allora... Se tu fai una cosa del genere... Almeno ammettilo... Almeno ammettilo... Cioè... A me piace molto più quelli che dicono... No... Per me lo sport è questo... Me ne frega un cazzo... Bello... No no no... Sì sì... Io non sono per nulla scandalizzato... Che uno venga attaccato... Mentre fa la pipì... Eh... Ando attaccato... Lo sport è sport... Cioè la corsa è corsa... E stai lì a pisciare... Però allora... In tal caso... Garan e Mick... Se la tua visione prevede... Dello sport del civismo... Prevede che si possano fare questo tipo di... Attacchi di colpi bassi... A casa noi ci divertiamo da pazzi... Allora non rompere le palle... Non rompere le palle poi quando Gaia Realini... Non ti dà un cambio in 50 chilometri... E poi... Ti frega in volata... Non andare lì ai microfoni... Tu che c'hai 40 anni... Già il doppio dell'età della Gaia... Hai vinto il decublo delle cose che potrà vincere... E non vai lì ai microfoni e dire... Domani sarà riposata... Visto che oggi non mi ha dato neanche un cambio... Ma che cosa vuoi? Fa la morale... Ma vada è incredibile questa cosa... Ultimamente c'è dell'acido nei ciclisti... Cioè è un po' la stessa polemica ai Ganna... Un po' la Roubaix... Vabbè... Vabbè... Insomma... Su Ganna non dico niente... Perché ne abbiamo già parlato tanto... No, no, no... Per carico... Quindi... Non aggiungiamo... No... Però... Vabbè... E anche... Ok... Se vuoi ti cito anche Rimko oggi... Che si incazza... Così tanto... Platealmente... Dopo una caduta di corsa... Abbastanza ormai... A quale più o meno è sulla colpa... Ma cosa voleva quel tipo... Che si è avvicinato lì... Alla caduta di due chilometri... Praticamente Rimko stava per terra seduto... Sculacchiato... Come già nella prima... Vabbè lo seduto... E' arrivato un tizio del pubblico... Che c'era una cosa in mano... Non so cosa volesse da Rimko... Sarà andato a chiedergli una borraccia... Non lo so... O un autografo... Ma tu non l'hai visto... Forse non l'hai visto... Hai girato un video... Vara... Lo ti ero... L'ho sentito parlare... Esatto... Della prima caduta... Dove si vede un signore che... Prima sta lì a letteralmente tipo mezzo metro dal culo di Rimko così a riprenderlo col telefono... Poi nota che c'è la borraccia sotto... Continua a riprendere con una mano... Rimane così... E con l'altra va sotto a prendere la borraccia... Ma la borraccia era tipo... Sotto le gambe di Rimko più o meno... Cioè sarà stata 5 centimetri da lui... E è andato proprio... Fra un po' lo baciava tipo... E poi se l'è presa tranquillina... E è andato via... Tutto soddisfatto... Adesso se troverete su ebay... Una borraccia di Rimko e Venepul... Il campione del mondo ha tipo 800 euro... Sapremo chi ce l'ha messa... E sta borraccia... E sta borraccia... Sai cos'è questa? Era una canzone... No... Festa Erasmus a Londra... Quando io ho vissuto per un mese e mezzo a Londra... Come un cuculo... Nell'appartamento della mia ex... E fanno una festa Erasmus... Io ero più grande ovviamente... E c'era la gente di tutti i paesi... Di tutte le nazionalità... Alcol, a fiumi... C'era una ragazza di Roma... Che era completamente ubriaca... E c'erano delle ragazze spagnole... Una dice all'altra... E sta borraccia... E si dice questa in Roma e fa... Oh sta borraccia a chi? Vabbè... So che... Ora dobbiamo riprendere il filo... Con la Gaia Realini... Quindi... Annemich... Dai... Insomma... Un po' di sportività... Hai perso la tappa... Non roppere le palle... E ha preso invece la maglia rossa... Poi l'ultimo giorno... Che era il giorno in cui io mi aspettavo... Ti ricordi che l'altra puntata... Noi dicevamo questa cosa di Gaia Realini... Non le mettiamo pressione... Però sappiamo che hai cova donga... Questa qui fa... Ma infatti... Abbiamo fatto bene a non mettere pressione... Perché si è beccata ai ventagli... Ed è inesperta ancora... In queste cose... E si è visto... Vabbè... Lasciamo stare... In un certo senso... Lasciamo stare che... Nel titolo della tappa dei ventagli... Ho scritto... Gaia Realini si perde nella corrente... Nel vento... Ah... Oddio... E il suo procuratore... Mi ha mandato un messaggio la sera... Dicendo... Eh... Ma tuteliamola... Questa ragazza è giovane... Vabbè... E che avevo scritto mai... E poi... E poi gli ho scritto... Comunque... Ancora non la conosce nessuno... In realtà... Di fatto... Gaia Realini... Quindi se noi iniziamo a parlare... Ma se non mi ha il titolo... E comunque stai andando importanza... Di base... A parte che significa che ti aspetti... Comunque da lei delle cose... Però se comunque tu... Inizia a creare una narrazione... Tu dici però questo... Mal si sposa con l'idea... Di non metterle pressione... Se inizi a parlare di lei... Anche quando magari le cose... Non sono andate benissimo... Però io ero sicuro... Cioè se io non avessi avuto... Guarda... Credetemi... Credetemi... Sono veramente sincero... Se io non avessi avuto la certezza... Matematica... Che questa qui... Il Lagos de Covadonga... Ti faceva il numerone... Io non avrei titolato su di lei... Avrei titolato magari su Silvia Persico... Su qualche altra... Sulla Magnaldi... Insomma... Qualche altra italiana che era in gara... Ma io ero sicurissimo... Che Gaia Realina e il Lagos de Covadonga... Avrebbe fatto qualcosa di... Importante... Di memorabile... Per questo io ho detto... Vabbè facciamo il titolo... Perché intanto creiamo... Eh... Il personaggio... Capito... Una... Character... Come si dice? Creazione del personaggio... Building... Character building... Sì sì sì... E infatti lei sui Lagos de Covadonga... Covadonga ha staccato a Mick Van Floyten... È stata lei capito? Che è una pietra miliare del nuovo ciclismo italiano... Che potrebbe seriamente segnare un passaggio di consegne... Ovviamente anche con la Vollering... Che a sua volta ha staccato a Van Floyten... Seguendo Gaia... Poi rinforzando... Poi andando a vincere la tappa... Che avrebbe sicuramente vinto la Vuelta... Senza l'attacco della Pisciata... Ma vabbè... Questa è un'altra storia... La Vollering è una dea... Del ciclismo ormai... Annemich... Dopo aver fatto l'anno scorso... Cioè ti ricordi quanto ne abbiamo parlato... In maniera entusiastica... Ha fatto bene... Mi sa che ha fatto bene... Ha beccato proprio l'anno... Dopo il ritiro a Van der Breggen... E prima dell'esplosione della Vollering... Se non rimane un po' in castratella... Però... Quest'anno rischia di passare... Da strega cattiva della situazione... Annemich Manvloyten... E che stavo a dire... Che ne si addice come ruolo... Secondo me... Ci sta tutto... È la zia bacchettona... È un po' agidella... Sì sì sì... Bene Marco... Io direi che possiamo anche salutarci... No... Ho interrotto... Ho interrotto il discorso a metà... Porca miseria... Che stavo dicendo di Gaia Realini... Stavo dicendo... Ah sì... Ha compiato comunque questa rimonta... Perché dal trentesimo posto... È arrivata terza sul podio... Ah sì sì... Nove posizioni recuperate l'ultimo giorno... L'ultimo giorno... Ah ecco cosa stavo dicendo... La cosa bellissima... E poi chiudo... È stato vedere il momento in cui... Si è arrivata ad una certa quota... Gaia Realini fin lì era stata passiva... Comunque insieme a... Vollering e Van Vloyden... Perché era la Vollering che stava attaccando... A un certo punto... Arrivano forse alla quota Realini... La chiameremo così... E lei fiorisce all'improvviso... Va davanti... Inizia a spingere... E uccide Annemiek Van Vloyden all'istante... Vollering che comunque ne aveva di più della collazionale... La segue... Poi la stacca solo nel finale... All'ultimo chilometro... Ma ci stava ormai... Annemiek salva la vuelta per nove secondi... Comunque il finale... Soprattutto in discesa... Dove Gaia sicuramente deve migliorare... Che poi aveva avuto anche il meccanico prima... Esatto... E l'entrata agilissima di cattiveria... Infatti io gli ho detto... Vai parti parti in elastico... Si stava... Però ha aspettato... E quindi è una storia... Una storia lieto fine... Questa qui di Gaia Realini alla vuelta... Così anche il suo procuratore sarà contento... E abbiamo anche raccontato... Una bella storia di sport... Per Aspera... Ad Astra... Come si suol dire... E ora... Io ti ringrazio di cuore... Ti saluto... Ti do appuntamento a... Fra cinque minuti... Nella cattiva nazionale... Ci vediamo... Lunedì... Per PRCP del giorno di riposo... Che insomma... Come dicevamo... Una volta scorsa... Sarà anche molto più facile registrare... Oggi ero totalmente alla frutta... Perché la vita è il nemico... Ma... Nonostante sia la giornata di cadute... Speriamo che non abbia troppe conseguenze... Su questo Giro Italia... Che è veramente la cosa... Che mi sta più sul cazzo di tutte... Quando le cadute... Rovinano i Grand Tour... Come diceva prima Marco... Speriamo veramente che Remco stia bene... Perché se no... Se ne penseremo... Io voglio dire una cosa... Al nostro pubblico... Ai nostri amici a casa... Cioè... Per registrare questa puntata oggi... Noi abbiamo fatto veramente... I salti mortali... In particolare Stefano... E quindi... Significa che proprio... Vi vogliamo tanto 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 bene... Perché... Fa rincastrare tutto... Poi... Ci fosse solo il Giro... Ci sono altre... Forse oggi... In Ungheria... Bernalz è di nuovo fatto... E' caduto... Mamma mia... Giocare femminile... Vittoria Jan Marcos... Lui che fa gli elise... Prima mi è spiazzato che... Mi hai scritto... Devo finire il Navarra... E io per un attimo ho pensato... Cos'è? Però... Capito? Io mi sono ricordato... Che ti avevo detto io... Alla mattina di farti l'articolo... Stupido me... Potevo far finta... E non vederlo... Quindi... Infatti se tu non me l'avessi detto... Io... Ma... Manco sapevo che c'era questa corsa oggi... Non ci avrei manco badato... Figurati... Va bene ragazzi... Ragazzi... Andate a cliccare quell'articolo in massa... Per giustificare... Questa follia... Lavorativa... Ehm... No... Era doveroso... Assolutamente... Ehm... Continuare ogni settimana... Perché è troppo bello PRCP... Quindi... Vi do appuntamento appunto... La settimana prossima... Grazie mille Marco... Per PRCP... E non solo... Non ti ho sentito? Mi hai risposto? No... Allora ho detto grazie a te... Poi pensavo che chiudessimo così... Senza dire più nulla... Basta... Ciao... 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 Ciao...